Ora ragazzi, dopo essermi presentato, avervi fatto capire nel primo podcast quanto è potente l'arma del Power Threesome, quindi il pensare al non lucro applicato assieme a delle leve all'Ask the Goal, andiamo esattamente a capire un altro aspetto fondamentale per quanto riguarda la vendita in questo secondo podcast. Ovviamente a tempo debito, così per chi sarà all'interno di SMMA, là io potrà vedere anche a livello pratico quelli che sono stati i miei risultati, perché è giusto prima di poter insegnare qualcosa a qualcuno di aver raggiunto anche risultati tangibili, ovviamente all'interno delle lezioni andrò a far vedere in piccola parte quelli che sono alcuni dei miei risultati da questo asset, quello che mi ha permesso comunque di generare per l'azienda più di 1.400.000 euro di netto in 11 mesi. Ora però andiamo a vedere in questo secondo podcast un altro aspetto fondamentale al di là del non lucro, al di là delle leve, al di là di fare attenzione agli obiettivi e alle esigenze che può avere il lead davanti ai nostri occhi, quanto è importante soffermarsi sui dubbi, sulle esigenze e sulle perplessità che il nostro ipotetico nuovo cliente può avere davanti ai nostri occhi. Ora, un ipotetico cliente che ci vuole pagare che siano 15, 10, 20 o 30.000 euro a livello mensile, ovviamente come detto nella prima lezione dipende sempre dalla casistica, sempre dalla tipologia di imprenditore, sempre dalla tipologia di azienda che abbiamo davanti ai nostri occhi, è giusto soffermarsi sui dubbi, sulle esigenze e sulle perplessità che questo lead, che questo cliente può avere davanti ai nostri occhi. Quindi, i dubbi che può avere un cliente, come giusto che siano, è che sicuramente non vi conosce, e questo è assolutamente normale, il punto è chi se ne frega. Se non vi conosce o se non sa chi siete, non importa assolutamente, ovviamente ci deve essere un processo di degeneration fatto e mirato per poter fargli capire un minimo di quello che fate. Però, l'abilità di un venditore sta anche nel poter profilare lui stesso il lead, quindi fargli capire che a priori che non ci sia conoscenza, a priori che non ci sia qualcosa di corrisposto, quanto è importante andare a soffermarsi sui suoi dubbi per andare a creare empatia, andare a creare rapporti in modo tale di entrare in confidenza con il nostro futuro cliente che avremo all'interno della nostra agenzia di social media marketing B2B. Quindi bisogna prestare una meticolosa attenzione su tutti i dubbi che può avere questo imprenditore, su tutte le esigenze che effettivamente vuole raggiungere, sulle perplessità, sul perché deve fidarsi a voi, sul perché deve andare ad acquisire un pacchetto che gli avete personalizzato e soprattutto sulle esigenze che lui ha in quel momento. Quindi, in questo preciso istante storico, con il Covid nuovamente imminente, con un lockdown nuovamente alle porte, c'è da capire esattamente come massimizzare una strategia nei suoi confronti per potergli portare più visibilità e più fatturato possibile. Quindi è importante soffermarsi su questi tre aspetti per capire che non è fondamentale andare a chiudere a tutti i costi, ok? Solo se c'è un matching veramente alto, solo se effettivamente ciò che voi proponete a questo ipotetico imprenditore ha una matchata veramente forte con i suoi dubbi, con le sue esigenze, con le perplessità, allora lì sì che creando empatia avete la chiave per poter andare a chiudere il pacchetto. I suoi dubbi, oltre al fattore che sicuramente non vi conosce, che non può sapere se non in minima parte su quella lead generation che ha fatto e quindi sta anche nell'abilità del proprietario della B2B, sta per fare una lead generation in modo tale che lì sia il più profilato possibile. I dubbi che può avere, oltre al fattore che non sa chi siete, o comunque vi conosce in minimissima parte, magari da un paio di annunci pubblicitari che gli sono comparsi sulla sua home, ovviamente il cliente deve capire perché scegliere voi e capire a livello pratico, al di là delle parole, cosa potete portargli in tasca. Quindi capire con la praticità e non con la teoria tutto quello che potete portargli a suo favore, che sia più visibilità, che sia strutturare gli unicommerce, che sia gestirgli l'advertising, dovete spiegargli a livello pratico, dopo che lui vi enuncia i propri dubbi, esattamente di cosa deve aver bisogno. Quindi dovete dirglielo in maniera esplicita che siete l'unico mezzo per fargli raggiungere un risultato. Quindi dovete stare attenti ai suoi dubbi, dovete stare molto attenti, prestare un'attenzione quasi maniacale alle sue esigenze. Mecciare quei dubbi per fargli capire esattamente cosa andrà a trovare in voi e prestare attenzione sulle sue esigenze in modo tale da fargli capire che quelle esigenze, da esigenze, da problema quasi che lui ha, perché un'esigenza alla fine si potrà mutare tranquillamente in un problema, con voi andranno a essere risolte. Quindi i dubbi, le esigenze, le perplessità che può avere l'imprenditore per andare a chiudere un pacchetto, per farmi andare a chiudere un pacchetto da 10, 15 o 20 mila euro a livello mensile, deve essere su un'attenzione veramente di un altro pianeta, ragazzi. Quindi dovete capire i dubbi, le esigenze, le perplessità, andarli a mecciare con quello che voi proponete, ma soffermarvi soprattutto a ripeterglielo più volte. Non abbiate paura, esattamente come sto facendo io in questo video, di essere ripetitivo, quindi di cercare di farvi entrare a tutti i costi queste parole nel vostro inconscio. Quindi i dubbi, le esigenze e le perplessità che il lead ha, voi dovete accurarle in modo meticoloso. Quindi dovete ascoltarle, dovete immagazzinare, dovete trovare più materiale formativo nel momento in cui ascoltate il lead, per poi andare a fare un matching che non abbia una singola obiezione. Ripeto che non abbia una singola obiezione.